Noi siamo qui per parlarvi ovviamente di ipocrisia, l'ipocrisia che è presente in ogni angolo della nostra vita, in ogni dove e in ogni quando. Anche nelle parole che proferisce il prete il giorno del matrimonio. Prometti di amarla sempre, tutti i giorni della tua vita, nella buona e nella cattiva sorte, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Di amarla e dolorarla tutti i giorni della tua vita, finché morte non vi separi! Finché morte non vi separi? Ma com'è pazzo, eh? Ma che ti fici male io, scusa? Dammi un'alternativa, mi manca l'aria! Pensate, una volta mia zia disse a mio zio, sarebbe bello se da morti ci ritrovassimo per stare ancora un po' insieme. Mio zio la fermò e ci disse, Arasio, calma, ricorda le parole che ha detto il prete, finché morte non vi separi! Quindi dopo di che ognuno pe fatte sua! Giustamente. Ora dico io, con tutte queste crisi che ci sono, tutte queste coppie che si sfasciano e non arrivano al matrimonio, oppure quando arrivano al matrimonio si sfasciano lo stesso, o quelle coppie fidanzati che dopo tanti anni si sposano e dopo due giorni si lasciano, o quelle coppie di fidanzati che dopo dieci anni dicono, o ci sposiamo, o ci lasciamo! Lasciarmi! Ora dico io, per tutti questi, non si potrebbe istituire un bel contratto di matrimonio a tempo determinato? Per esempio, volito due anni, alla scadenza dei due anni gli sposi si presentano dal parrino, senza bisogno di tribunale, avvocati, niente, e insieme decidono se è il caso di continuare oppure no, e poi, arrivederci nella prossima scadenza, ciao, ne vedremo fra due anni, ciao, ciao! Vabbè scusa, però tu così paragoni il matrimonio alle macchine. Bravo! Come la revisione! La macchina, la revisione, ogni due anni la revisione, poi arriva la rottomazione e te la vi in mezzini. No, no, aspetta, sarebbe meglio a questo punto paragonarlo invece ai vecchi contratti di lavoro, i co-co-co, quelli che poi sono diventati l'app, lavori a progetto. Bravo! Si dovrebbe istituire un bel MAP, matrimonio a progetto. Se raggiungi l'obiettivo, continui, se no, OPSC. Cioè? Ognuno passa a casa.